Ciao a tutti! Allora cosa ci racconti di bello? Niente Samuele, io sono contento, è una buona stagione, soprattutto ottima per crescere, visto che è la prima stagione con i grandi e quindi continuiamo a crescere. E cosa ci dici di novità? Novità di mercato nel vostro settore ce ne sono oppure no? No, ad oggi è tutto fermo, si è terminato con la sessione invernale e ad oggi il mercato è fermo. Approfitto di queste interviste per domandarti se in futuro ti chiamassi qualche società, tipo ti chiamassi il Padova giovane e ritorneresti a Padova. Certo, a Padova sono cresciuto e quindi sarebbe bello tornare, ovvio. Quindi, che ne so, nel futuro magari ti piacerebbe fare qualcosa tipo altri cantoni oppure metterti a fare qualcosa tipo ondurre o qualcos'altro. Ecco, il futuro, terminata magari il periodo in cui posso giocare, che il fisico mi permetterà di giocare, mi piacerebbe iniziare ad allenare. Ormai, se sei ancora giovane, penso che tu abbia tempo rispetto a tanti. Nel tutto saluta anche gli amici, quelli che magari seguiranno questa nostra rivista indifferita. Li saluti, perché tanto so che ci seguirà anche il mister Longhi, lo saluti. Certo, un saluto al mister e a tutti quelli che guarderanno l'intervista. E per quanto riguarda oggi questa nostra intervista, direi che possiamo dire che abbiamo finito. Per ora ti lasciamo e parliamo normalmente. Va bene, ottimo, grazie, ciao a tutti.